Quanto ero felice l'altra domenica, allo stesso modo sono deluso, però tra virgolette deluso, ripeto, non eravamo dei fenomeni per me alla prima giornata e a Palmi e non siamo scarsi oggi, quindi solamente continuiamo a lavorare, stiamo uniti, tranquilli, ho appena parlato nello spoileratoio con i ragazzi, ho detto di non fare assolutamente un funerale, che non è successo niente, nel calcio ci sta, forse ci voleva anche per renderci un po' più forti, più uniti e rimetterci con i piedi per terra per lavorare e andare avanti. Per me non, da un lato sono contento perché oggi l'Efficino non è venuto, il Messina non c'era, quindi hanno giocato contro una fotocopia del Messina, una fotocopia sbagliata e quindi hanno vinto, complimenti a loro, una bella squadra, hanno fatto bene, hanno meritato di vincere, però ripeto, oggi Messina non era il mio Messina, quindi ci divertiremo ancora.